Un saluto da Cinema Italiano a Collecchio in provincia di Parma, dal 25 al 28 agosto, quattro giorni dedicati al cinema e non solo con l'ottava edizione del Video Film Festival. Apertura giovedì 25 alle 21 con la proiezione di Il gioiellino di Andrea Molaioli, film che racconta le vicende della Parmalat e il percorso che portò una delle più floride aziende italiane alla bancarotta. Molaioli parla del prima delle vicende interne alla società e alla famiglia che portarono al crack e firma il racconto al momento dell'arresto dei responsabili, tralasciando gli aspetti successivi ed evitando, lasciandolo al pubblico, ogni giudizio in merito alla vicenda. Un film interessante forse anche grazie al cast di Primordine. Tony Servillo, Remo Girone e una Sara Felberbaum al debutto in un ruolo serio, dopo tanto cinema giovanile. Il festival prosegue con la mostra dedicata all'Uomo Fiammifero, il film di Marco Chiarini, che sarà presente a Collecchio. Poi le proiezioni dei film in concorso e tante serate dedicate alla musica di tutto il mondo. Insomma, Collecchio chiude il mese più ricco di festival dell'anno, poi la parola passa ai grandi. Dal 30 si comincia con la mostra di Venezia. Un saluto!